E' stata scoperta una piantagione con 10.000 piante di cannabis indica incontrata a Ficuzza nelle campagne di Gela. I finanzieri di Vittoria hanno sequestrato le piante coltivate in tre serre e collocate in un'area di oltre 6.000 metri quadrati. La droga sequestrata, se fosse stata venduta al dettaglio, avrebbe fruttato diversi milioni di euro. Da una stima effettuata sulla base delle prime analisi eseguite dall'ASP di Ragusa, si ritiene che ogni pianta, una volta completata la fase di crescita ed essiccata, avrebbe prodotto dalle 150 alle 220 dosi. Le piante di marijuana, alte tra gli 80 e i 120 centimetri, erano nascoste con una barriera di ortaggi ad alto fusto. Durante l'operazione i militari della Compagnia di Vittoria hanno arrestato il responsabile della coltivazione, un 61enne vittoriese. Sono in corso indagini per identificare altri eventuali complici. Nell'area si trova anche un piccolo caseggiato rurale, all'interno del quale gli investigatori hanno trovato e sequestrato una radiotrasmittente ed un binocolo usati per la sorveglianza. Il 61enne è stato portato in carcere a Ragusa.